Per il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez quest'anno sarà l'anno dell'ora o mai più nella lotta al cambiamento climatico e gli incontri per accordi condivisi per affrontare la crisi da Napoli si spostano a Londra. Dopo il G20 e in preparazione della COP26, la conferenza sul cambiamento climatico che si terrà a novembre in Scozia, Londra ospita un prevertice. Tra i problemi sul tavolo la riduzione delle emissioni di CO2. A questo incontro partecipano USA, Cina e India, considerati tra i maggiori produttori di questo gas serra. Dall'incontro di Londra ci si aspetta un impegno condiviso sulla questione che finora in pratica non è stato raggiunto. Sulla carta infatti esiste un impegno firmato da oltre 190 paesi per contenere l'innalzamento della temperatura media sotto i due gradi, idealmente a un grado e mezzo rispetto ai livelli del 1900. Ma secondo il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, per raggiungere l'obiettivo entro il 2030 dobbiamo tagliare le emissioni di carbonio del 45% rispetto ai livelli del 2010. Ma il rapporto rivela che, malgrado gli annunci sempre più ambiziosi in termini di emissioni, l'impatto sul clima sarà di gran lunga inferiore a quello auspicato. Di questo passo, conclude la relazione delle Nazioni Unite, entro il 2030 riusciremo a ridurre le emissioni solo dell'1% rispetto ai livelli del 2010.